Sei eri tubo con lo shotgun? Si lo sto caricando Si lo sto caricando Ok eccolo Ok uno knock out Bella C'è il dino al metto Dov'è il tizio? Non lo so Ho sentito il rumore di vetri o sbaglio? Hai sentito anche tu? Eccolo eccolo Ok ok giù 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 entrambi Tutti e due? Anche quello sopra? No forse no forse uno solo Si uno solo uno solo Quello sopra mi ha fatto parecchio male anche Cazzo mi ha preso col mini Ma dai headshot col mini Ma nooo Ma nooo No 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 No